Top and flop dei dati autel di ieri giovedì 6 giugno, torniamo a occuparci delle reti ammiraglie generaliste, quindi Rai1 e Canale 5 e al top per la giornata di ieri noi mettiamo Rai1 che con il Seat Music Award è riuscito a ottenere la leadership come programma più visto della serata, in questi primi giorni d'estate con le scuole che stanno finendo quindi con i palinsesti che si avviano verso il torpore estivo, Rai1 con Carlo Conti e Vanessa Incontrada mette a segno un buon risultato grazie al Seat Music Award dall'Arena di Verona. Flop invece per la diretta concorrente, quindi Canale 5 che con All Together Now non ha raccolto più di 2 milioni e 200 mila spettatori, quindi un risultato un po' deludente per uno show con Michel Unzi che era J-AX capo giuria che di fatto non ha mai decollato, un esperimento non riuscito fino in fondo anche se in realtà il programma, l'idea, il format è molto divertente un talent se non altro nuovo e quindi però purtroppo il pubblico non l'ha mai premiato fino in fondo. Vi ricordiamo che tutti i dati d'ascolto, le analisi e le curve le trovate sul sito tvzoom.it, noi ci rivediamo lunedì.